ce l'ho fatta per un pelo fantastico gli altri umani hanno sgombrato il campo ora devi andare lì e aiutare i tuoi amici a finire di cucinare e noi vi daremo una mano l'ultima cosa che vogliamo è perdere questo ristorante e le sue fantastiche provviste di cibo quando si tratta di cucinare sono sempre pronto quell'umano è ancora qui ed è tutto matto devi trovare il modo di farlo uscire che ne dici del bagno? dai papà non preoccuparti ci penso io povero linguine sembra che gli altri cuochi lo abbiano lasciato solo con il ristorante pieno di clienti ma quella che per lui è una crisi per un altro chef è un'opportunità devi aiutarlo Remy sei pronto? io? soffrire di vertigini? certo che non grazie grazie fantastico fantastico che dire adoro la buona cucina mi fa anche meno mi fa perchè la buona cucina mi fa nascendo vada un'altraация mi fa nascendo Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Dobbiamo liberarci di quell'umano. Sì, ma come? Fallo entrare nel ripostiglio. Quando sarà dentro lo chiuderemo a chiave. Non tutti gli umani ci disprezzano, Jit. Ma questo qui sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, 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 sì.